E' al nostro fianco e continuerà ad esserlo, da dove ci sarà, come chiamiamo, una prostituzione di questo spleglio di Gratani, non sono venuti, hanno bloccato qualsiasi tipo di iniziativa, ma nonostante questo non è mai venuta a mangiare... La nostra mia famiglia è Bernardo Campo, mi passiamo parlando, si grazie. Molto, molto oculati in questo e ringrazio, vi ringrazio, vedremo adesso il programma, il programma ce lo racconterà. E' contento perché questa volta stiamo anticipando i tempi e vi stiamo anticipando la possibilità agli organizzatori, quindi alla produzione di Videobank, di fare questo festival italiana che dà alla Fondazione Dorminarte le risorse. Come dire, di circostanza, ma veramente semplice, le musiche di Eni Morricone, solo in quanto film, ma perché averla accompagnata anche da un'orchestra. Quindi questo vuole essere un amico, penso che sia una cosa molto importante, molto bella. Ringrazio Andrea Occhipinti di Lucky Red. Il festival possa essere e sarà sicuramente, diciamo, avrà sicuramente un amico. Non competono all'amministratore locale, ma con i quali purtroppo dobbiamo misurarci. In questo momento gli operatori economici contarebbero intero perché l'assessore Messina è un amico del festival, ma è un amico di Tauermin. Grazie. 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 Grazie.